ormai è ufficiale una delle coppie più amate di amici 20 è giunta al capolinea a darne certezza un indizio social poi lo sfogo di uno dei due le voci su di loro erano circolate fin dai primi giorni immediatamente successivi alla finale di amici durante la quale lui era stato uno dei protagonisti ma ora è arrivata l'ufficialità daddy e rosa si sono lasciati non si erano mai fatti vedere insieme una volta che anche il cantante aveva lasciato il talent ma se lei sui suoi social qualche volta aveva fatto cenno alla loro storia lui si era fin da subito chiuso in silenzio stampa quando poi lei ha aperto un nuovo profilo instagram i due hanno anche cominciato a seguirsi a vicenda accendendo le speranze dei fan della coppia che le cose stessero andando per il verso giusto e invece nulla da fare è proprio dal social che arriva la conferma sulla fine della loro storia secondo i fan più attenti della coppia i due avrebbero smesso di seguirsi a vicenda su instagram indizio inequivocabile del fatto che ormai le cose tra i due abbiano preso una brutta piega di recente la ballerina ha anche festeggiato il suo compleanno in compagnia di alcuni ex compagni di scuola di amici e indovinate chi era il grande assente proprio lui daddy e quest'ultimo su twitter ha pubblicato nelle scorse ore un cinguettio che avvalora ancora di più la tesi dopo un silenzio durato settimane per la prima volta si è rivolto ai suoi fan più cattivi pregando loro di pesare le parole e di non giudicare pregando loro di pesare le parole e di non giudicare le parole e di non giudicare le parole e di non giudicare le parole grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.